Un teatro ronconi gremito ha fatto da cornice all'appuntamento con il tradizionale concerto Sotto l'Albero, svoltosi venerdì sera e giunto ormai alla sua ventesima edizione. Ad introdurre la serata è stata Daniela Maltese che ha presentato gli applauditi interpreti, i componenti del quartetto d'archi di Umbria Ensemble e il coro Kai degli Alpini Colle del Sole. L'appuntamento musicale di quest'anno, promosso da Comune di Gubbio, dall'Associazione Amici della Musica, da Gubbio Summer Festival con il patrocinio della regione, il contributo di Camera di Commercio di Perugia, Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice di Roma e la collaborazione di Colace M Parco Tele Cappuccini, era infatti dedicato ai cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, da cui la scelta del coro Kai degli Alpini, ma anche del repertorio, promosso dall'Umbria Ensemble, corredato da foto d'epoca proiettate alle spalle dei musicisti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.